E' un po' di fionda, sui tre chilometri e mezzo del crociato per cercare di straffare. Allora, questo è il Presidente, il Presidente Lazio, che è il Presidente Lazio, che sta riprovando, che vuole riprovare duramente a tornare vinte, il vincitore del Canto La di Maria Orlava, ma sto parlando della grotta, in casa di perdura, riproviamo con la città. Oh, 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 oh